Ecco le entrate in campo, nella categoria I Sordienti c'è la cerimonia di apertura di questo quinto Memorial di calcio giovanile, Massimo Scalinci, città di Castelfrentano. Tutti dritti, gli ultimi, più avanti, ok no, dallo agli ultimi quattro, su su su, esatto allora andate voi, stringetevi su, su stringetevi, stringetevi, due in ginocchio, due in ginocchio come si è messo qua, alzate, no, due in ginocchio, metterlo più dritto, andiamo, ecco c'è l'inno di Mameli. Sengenta tu rischi. Sengenta tu rischi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.